Nel cuore di questo bosco, il tempo sembra sospeso. Lungo un vecchio tronco, funghi resistenti si aggrappano, simboli silenziosi del ciclo eterno della natura. A pochi passi, in una radura insolitamente vicina a un centro abitato, un possente cervo maschio riposa, la sua figura imponente perfettamente in armonia con l'ambiente circostante. Mentre i raggi del sole cominciano a scaldare il bosco, una femmina si avvicina, con movimenti lenti e decisi. Il maschio risponde scuotendo la testa in un gesto di riconoscimento, un ondeggiare rituale che precede il bramito profondo e risonante che spezza la quiete della foresta. È un richiamo potente, carico di significato, un segnale di presenza e di forza. Poco dopo, il cervo si alza, i suoi occhi ancora fissi sulla femmina, scambiandosi un mutuo accordo. Inizia il suo cammino verso il fiume, dove lo attendono altre femmine che pascolano ai bordi, attente e tranquille. È il preludio a un periodo cruciale dell'anno, a cavallo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Tra poco inizieranno le lotte per la supremazia, dove i più forti si contenderanno il diritto di guidare il branco e di trasmettere i propri geni. Per ora, però, la natura concede ancora un momento di quiete, un istante di equilibrio, prima che le leggi della selezione naturale prendano il sopravvento. Sulle rive del lago di Barrea, incorniciato dal borgo di Civitella al Fedena, si estende l'area faunistica del lupo, un rifugio protetto dove questi animali iconici vivono e si riproducono in sicurezza. Cuccioli crescono giocando sotto l'occhio vigile degli adulti, imparando a conoscere il loro territorio e le dinamiche del gruppo. In una pozza d'acqua lungo il fiume, dove le acque scorrono lente e quasi stagnanti, un airone cenerino sta immobile, perfettamente concentrato, in attesa della sua preda. Il suo sguardo è fisso, attento a ogni minimo movimento sotto la superficie. Tutto intorno, le paperelle nuotano tranquille, anch'esse alla ricerca di cibo, ignare della silenziosa caccia del l'airone, maestro di pazienza e precisione. È giunta la stagione degli amori per i cervi. Sulle vette dei colli, al di là di un'ampia vallata, i branchi si sono radunati, e nel silenzio dell'alba riecheggiano i possenti bramiti dei maschi, segnali inequivocabili del loro desiderio di dominare. La scena si svolge sotto il grande disco della luna, che ancora induggia sulla cima, gettando una luce fredda e quasi surreale su questo antico rituale di forza e resistenza. I maschi adulti, con i loro grandi palchi ramificati, si sfidano in scontri che sono veri e propri duelli di potenza e determinazione. I due contendenti si spingono e si sfidano, cercando di destabilizzarsi l'un l'altro, spingendo fino a esaurire le energie. È una prova di forza, certo, ma anche di resistenza. Solo chi riesce a dimostrare il massimo della propria abilità e resistenza ottiene il diritto di primeggiare. E il premio è prezioso. La possibilità di corteggiare le femmine e trasmettere i propri geni alla generazione futura. Le femmine, intanto, osservano da vicino ma con indifferenza apparente. Attente però alla forza dei maschi che si contenderanno il loro favore. Sono infatti loro a selezionare i maschi dominanti, scegliendo coloro che, con i loro vigorosi scontri, dimostrano di essere i più adatti a garantire la continuità e la salute del branco. Questo periodo di lotte e corteggiamenti è essenziale per la sopravvivenza della specie. I cervi, infatti, vivono in una struttura sociale complessa, basata su gerarchie che si rinnovano e si consolidano proprio in questo momento.